Startup Cile è un'opportunità che il Cile offre a giovani che vogliono fare impresa sul territorio cileno. Le offrono 40.000 dollari per chi vuole costituire una società e poi deve rimanere almeno sei mesi. Basta avere un'idea imprenditoriale, postarla sul loro sito e loro poi selezioneranno chi attrarre in Cile. Noi come PoliHub vogliamo far crescere le nostre imprese e qualsiasi iniziativa rivolta a una creazione imprenditoriale di giovani italiani è da noi accettata. Il Cile è l'office in Italia che incontra il trade tra il Cile e l'Italia e abbiamo creato la brand di Cile. Oggi abbiamo presentato il programma di Cile, il programma del governo di Cile, cercando di trasformare il paio di Cile in l'entrepreneurale di l'America Latina. Oggi siamo in PoliHub, in Milano, cercando di attraverso nuovi start-ups da Cile per la prossima settimana in Juni. Quali question che hai, puoi andare a www.startupechile.org o puoi uscire in Twitter su www.prochile-it. Ho spero che voi applicate e vediamo presto!